Non volevano fargli nessun buco, i genitori chiedono una cosa semplice, portarlo a casa, farlo morire a casa, come sarà e quando sarà. Qui invece assistiamo non tanto alla storia del povero Alfie che muore e muore di fame perché se no ne facciamo un caso melodrammatico. Noi assistiamo all'angheria di uno stato che diventa uno stato di polizia che sovrasta lo stato di diritto perché si prende la briga di decidere che una vita è futile, queste sono le parole della magistratura britannica e in base a questa decisione decide il giorno, il luogo, l'ora, le modalità con cui una creatura deve morire. Non parliamo di creature con cui un bambino, una persona umana deve morire. Questa è una cosa che sostituisce il diritto di famiglia con un mondo orvuelliano. Io ero qui dentro, mi sembra che Cecchi Paone non ci fosse neanche Odifreddi, ho visto anche se Cecchi Paone sembrava fare una diagnosi. Il professor Haas di Monaco non ce l'aveva la diagnosi, lui sì, lo diremo al professor Haas. Io invece ero qui dentro un paio di ore fa quando la polizia ha fatto illuzione. Chieda a Dallapiccola che è cattolico e ha detto che quella malattia è degenerativa. Lei stia zitto e mi faccia finire di parlare. Lei non era qui quando i poliziotti ci hanno mandato fuori. Ma io non vado in portineria, non serve a nulla andare in portineria a farsi intervistare. Il professor Dallapiccola è un grande genetista cattolico e un grande genetista cattolico ha confermato che il bambino non è in alcun modo curabile e recuperabile. Fermi, fermi, fermi. Signor Cecchi Paone. No, ma questo... Dallapiccola, lei non sa chi è. Vada a vedere chi è. No, ho capito, ma nessuno... Scusate, nessuno... No, non facciamo polemiche. No, non vuol curare il bambino. Posso dirti una cosa? Io devo dirti realmente, essendo stato qua, avendo visto un po' di cose, se io avessi un figlio in questa situazione io sarei esattamente come i genitori di Thomas. Fatemelo portare a casa, morirà a settimana ventura. Che muoia oggi o muoia tra una settimana o muoia tra 15 giorni c'è anche il diritto di morire in pace e in tranquillità. Bene, ma il tribunale ha detto di sì. Il tribunale ha detto che può andare a casa. Ma i medici hanno detto di no, lo vediamo tra 5 giorni. Hanno detto che non è pronto a uscire dall'ospedale. Ma sapete come sta voi bambini? Vi devo interrompere, non voglio chiudere con discussioni su questa vicenda perché purtroppo accende gli animi perché sono cose che non si risolvono attraverso purtroppo un dibattito. Ci sono sensibilità diverse, idee diverse. Posso solo dire che in realtà questo è un piccolo caso di un'espressione molto più generale perché ha a che fare appunto con questa insicurezza e anche questo astio nei confronti della scienza. L'idea del diritto è di dire noi possiamo dire le nostre cose, abbiamo il diritto di dirlo, se la scienza ne dice un'altra cosa sono due diritti. Ma non so se è esattamente questo. La scienza deve farsi voler più bene però perché con una storia del genere la scienza non si fa voler bene. Senza la scienza tu non eri neanche nato. Vabbè. Alessandro grazie, grazie Angelo Machiavello, grazie ad Alessandro. Ho fatto un casino. A Giulia, grazie a Odifretti.